Benvenuto a Isabel Royce, Head of SRI Research per Allianz Global Investors, al quale vogliamo chiedere come si coniuga un approccio sostenibile agli investimenti dal punto di vista della vostra società di Allianz Global Investors e come questo approccio, quel mondo SRI si coniuga con la vostra proposta commerciale. Si coniuga molto bene, nel senso che abbiamo un approccio a tre fasce. Il primo è Integrated ESG, nel quale l'analisi ESG viene integrata nell'analisi generale di tutto il processo di investimento e abbiamo delle strategie sotto di questo, che le strategie sono presenti in tutte le access class, per cui quello è uno. Il secondo sarebbe Sostenibile e Responsabile, SRI, vero e proprio. Anche qui noi abbiamo un approccio che abbiamo da più di 16 anni e un approccio con prodotti che abbiamo da più di 16 anni in tutte le asset class. Questo approccio è molto più mirato alla sostenibilità, perché la gente che compra questi fondi e gente che veramente vuole investire in qualcosa non solo sostenibile, ma anche responsabile. Perciò questa è una fascia specifica. E la terza è quello che si chiama l'Impact Investing. Anche qua siamo presenti in tutte le asset class e l'Impact è dove il risparmiatore o l'investitore istituzionale vuole non solo fare un investimento sostenibile, ma vuole anche avere un impatto o ambientale o sociale.